Chiaramente i timori non sono ancora sfumati, c'è ancora preoccupazione, siamo qui che attendiamo, vediamo quale sarà il grado di contagio. Siamo abbastanza ottimisti perché comunque le scuole hanno portato avanti dei protocolli molto severi, molto inerenti alle linee guida. Rimane il rischio contagio Covid a scuola ad essere il punto focale e se i contagi sono pochi e derivanti da contatti stretti familiari, l'assessore abbraccia la proposta del governatore Zaglia di tenere le classi aperte, nonostante uno studente positivo a coloro i compagni fossero negativi, non costringendoli alla quarantena. Più che utile direi indispensabile perché abbiamo visto finora che tutte le situazioni dove è stata applicata la quarantena è stata una quarantena cautelativa e che però bloccando classi intere si crea anche uno stato d'animo, oltre che un disagio organizzativo delle famiglie, anche uno stato d'animo non ottimista, non positivo. Sul fronte ai lavori Vicenza ha lavorato sodo e ora è solo questione di ritocchi e piccoli interventi. Stiamo ottimando dei lavori di sistemazione di giardini, di sistemazione di qualche porta da aprire, di serramenti, cioè noi continuiamo di bagni che andremo a fare entro il mese di ottobre, noi continuiamo per spendere fino all'ultimo euro. E sul fronte concorsone l'assessore da insegnante ha le idee chiare. Al 22 di ottobre condivido le preoccupazioni perché rimandiamo in tilt alle scuole, perché giustamente i colleghi che devono concorrere andranno a concorrere.